A Scaglioni vengono consegnati i dati a questi premi che complessivamente ammonta a 1.500 euro cada uno all'anno. Quindi avendo anche l'agevolazione fiscale, il ritorno economico per il dipendente è sicuramente di interesse. A Oderzo, in un'impresa che lavora i surgelati, il nuovo accordo sarà operativo già nei prossimi mesi consentendo ai dipendenti di veder riconosciuto un premio produttività che non sarà aggredito dalla tassazione. L'accordo prevede l'applicazione in tempi rapidi anche nelle aziende minori e senza rappresentanza sindacale di un sistema di erogazione di premi ai dipendenti collegati al raggiungimento o meno degli obiettivi. Lo schema consente a ciascuna realtà di adeguare il contratto in base anche alle esigenze di produttività, qualità e altri aspetti come la riduzione delle assenze o degli infortuni. Queste tipologie di accordo sono dei vestiti tagliati su misura delle aziende, cioè sono le aziende che ci danno le idee, ci danno gli obiettivi, noi li aiutiamo con lo strumento della contrattazione aziendale. La contrattazione che stiamo mettendo in atto attraverso questo accordo territoriale ci dà la possibilità di dare più reddito ai lavoratori attraverso la detassazione, ma allo stesso tempo di fare contrattazione, una contrattazione proprio creata su misura per le aziende e per i lavoratori in particolare, e soprattutto creare anche un sistema di welfare aziendale barra territoriale. Insomma accordi su misura con gli sgravi fiscali previsti dalla legge di stabilità e le componenti integrative del reddito che possono essere convertite in servizi di welfare, massimizzando in questo caso il risparmio fiscale per azienda e lavoratore. Consente anche alle imprese più periferiche, purché moderne e convinte del proprio obiettivo, di siglare accordi che hanno la stessa valenza contrattuale di quelli che si fanno alla Fiat. Ad essere interessate dall'accordo la maggioranza delle imprese trevigiane, circa 57.000 dipendenti in tutto.